Ogni uomo è colpevole per tutto il bene che non ha fatto. Questa citazione di Voltaire ha responsabilizzato questa giunta municipale, il sindaco, gli assessori insieme al presidente del Consiglio. Abbiamo quindi deciso responsabilmente di donare 7.000 euro all'ospedale di Vasto attraverso il conto corrente aperto dalla Pilkington per questa raccolta fondi. È un gesto di grande responsabilità e abbiamo deciso di aderire per due motivi fondamentali. Primo perché sappiamo a cosa sono destinati questi soldi e cioè saranno destinati all'acquisto di unità di terapie intensive per il nostro ospedale, l'ospedale di Vasto. Il secondo perché l'ospedale di Vasto fa parte del nostro territorio e il nostro ospedale di tutti i cittadini del Vastese. Per questo vogliamo ringraziare tutti i dottori, gli infermieri, gli operatori sanitari, gli autisti del 118 per il prezioso lavoro che stanno svolgendo in questi giorni. Iniziativa benefica a cui aderiranno sicuramente anche i consiglieri di minoranza e di maggioranza. Sappiamo di sicuro che anche i dipendenti comunali hanno dato la loro adesione e per questo ringrazio anche il centro di urno anziani Everisto Sparvieri che ha dato un contributo di 1000 euro a tal riguardo e l'invito è fatto anche a tutte le associazioni che vorranno partecipare e ai singoli cittadini. Faccio un appello a tutte quelle persone più fortunate di questo territorio affinché possano condividere la loro ricchezza dando un contributo per questa giusta causa. Grazie. Grazie. Grazie.